Shalom U'R'A'Bezer Tashem, tra poco leggeremo la Meghillah di Esther. Nella Meghillah di Esther noi troviamo alcune figure molto particolari, per cui la figura di Amman. Ogni volta che si recita il suo nome, molti usano, in base al Ramah, battere i piedi. Perché questo? Perché c'è un verso nel Mishle, Shem Reshaim Rikav. Il nome dei malvagi deve essere rovinato, deve essere distrutto, deve essere devastato. Oggi, in un'epoca in cui il benpensiero governa, noi pensiamo, va bene, non bisogna screditare nessuno. Ci insegna la Torah? No. Se c'è un malvagio riconosciuto come tale, che fa solo le sue azioni, non per un beneficio personale, non per altri interessi, ma solo ed esclusivamente per fare del male a qualcuno, devi screditarlo. Devi renderti conto che questo è il male.